I supercharger sono ancora una risorsa fondamentale per Tesla? Scopriamolo dopo la sigla. Buongiorno cari amici teslari, oggi parliamo della rete supercharger che è stata nel passato e forse ancora oggi una risorsa che è stata determinante per molte persone nella scelta di acquistare un'auto elettrica, nello specifico Tesla, oppure no. Se voi mi aveste chiesto tre anni fa se avrei mai comprato un'auto elettrica al di fuori di Tesla, vi avrei detto sicuramente assolutamente no. Perché? Perché la rete supercharger, nonostante tre anni fa comunque i supercharger erano forse meno della metà di quelli di oggi, permetteva e permette tutt'oggi di viaggiare in completa tranquillità dove l'auto ci dice esattamente dove e quando fermarci e per quanto tempo. Ovviamente se noi vogliamo seguire i consigli dell'auto. Se voi invece mi chiedete oggi se comprerei un'altra auto elettrica, non Tesla, io probabilmente vi risponderei di sì. Infatti ho comprato il 500, ma quello è un altro discorso. Perché questo? Perché le altre reti di ricarica in questi tre anni in cui io sono stato negli Stati Uniti si sono evolute tantissimo. Ovviamente la rete supercharger è esplosa e si è espansa ancora di più e continuerà a farlo. Ovviamente una rete estremamente affidabile, diffusa, dove per ogni sito ci sono tra le 8 e le 20 colonnine, quindi diciamo che ha sempre i suoi pregi. Però non bisogna sottovalutare tutte le altre reti, Free2X in autostrada, Ionity in autostrada e fuori, Enel X. Ci sono tanti player che hanno cominciato effettivamente a installare seriamente una rete utilizzabile e che permette a qualsiasi auto elettrica, indipendentemente dalla sua autonomia, di poter viaggiare in tranquillità. Quindi la domanda è, rimane così determinante nella scelta di una Tesla o meno la rete supercharger. Allora secondo me, in Italia non è ancora così ma verrà a breve, io me lo aspettavo per quest'estate ma probabilmente hanno ritardato un po' l'apertura di alcuni supercharger. Io credo che ormai la rete supercharger di per sé vada considerata esattamente come qualsiasi altra rete di ricarica. Ora immaginiamo che si chiami Ionity 2, così per ridere, o Tesla Ionity, chiamiamola così. Che cosa significa? Significa che io ho una Tesla e posso decidere se ricaricare ai supercharger o se ricaricare ad altre colonnine. Quando la rete supercharger sarà aperta a tutti, come lo è già in nord Europa, se io ho un'altra auto elettrica posso scegliere se ricaricare a una Ionity o se ricaricare a un supercharger Tesla. Non c'è alcuna differenza. Il fatto che sia marchiata Tesla non significa che io, proprietario di Tesla, debba avere dei vantaggi particolari nell'uso di questa rete. È semplicemente una rete di ricarica che è marchiata Tesla, guarda caso. Ora, qual è il grosso vantaggio che rimane per i proprietari di Tesla? L'integrazione con il sistema auto. Perché se io vado a pianificare un viaggio e non ho voglia di usare altre app, di guardare l'app di B-Charge o di Enel X, allora io metto alla mia destinazione, il padone mi dice esattamente quello che devo fare e io lo seguo tranquillamente. Ma se io voglio perdere, ma veramente due minuti, a fare una minima pianificazione del viaggio, che poi parliamo, adesso parliamoci chiaro, su magari 3, 4, 500 km, significa una sosta da 10 minuti e un quarto d'ora, ma se io voglio perdere questi due minuti nel decidere dove fermarmi, allora apro una delle app che vi ho citato prima e molto semplicemente vado a scegliere dove fermarmi, magari addirittura in autostrada. Ora vi faccio un esempio, io sono rientrato dagli Stati Uniti senza avere la minima idea della rete di ricarica che avrei trovato in Italia, ho percorso, ve lo metto in sovraimpressione perché ho appena fatto la foto, 2.004 km in una settimana, 2.004 km. Ho consumato 370 kWh e ho ricaricato solo ed esclusivamente a colonnine non Tesla e non ho neanche mai ricaricato a casa. Questo significa che io, così, senza avere la minima idea di dove fossero, come fosse la rete, semplicemente usando le app in maniera estremamente semplice, sono andato a trovare le colonnine quando e dove mi servivano. Perché ho scelto di non ricaricare i Supercharger? Beh, i Supercharger mi costavano 50 centesimi a kilowattora. Con alcune flat, alcuni abbonamenti di B-Charge e di Enelix, tra l'altro se volete trovate il mio codice B-Charge in descrizione, se volete il codice sconto, comunque sia, io ho pagato per 2.000 km, 0.30 euro a kilowattora per un totale di 111 euro per 2.000 km. Con una macchina da 500 e passa cavalli. Poi, tra l'altro, questo è il conto grossolano, perché io avevo un paio di codici sconto B-Charge più un altro piccolo sconto del Tesla Club, alla fine secondo me ho speso meno di 100 euro per fare 2.000 km. Con la ricarica e i Supercharger avrei speso circa, a occhio e croce, 160-170 euro. Quindi capite che c'è una differenza sostanziale. Quindi, a oggi, ho una Tesla? Posso ricaricare i Supercharger? Posso ricaricare anche ad altre colonnine. Non ho una Tesla? Per ora posso ricaricare solo ad altre colonnine, ma in un futuro molto molto vicino, potrò ricaricare anche ai Supercharger. Quindi questo che cosa ci fa capire e qual è l'enorme vantaggio e passo avanti di questi ultimi anni nell'adozione dell'elettrico? Che c'è più libertà di scelta. Perché se io voglio ricaricare, come in questo momento, io sto ricaricando a una Enel X da 150 kW. Se io fossi arrivato qui e era rotta, non andava, era occupata o quant'altro, io potevo scegliere di andare al Supercharger più vicino o andare ad un'altra colonnina. E ormai la diffusione comincia a diventare davvero capillare. Beh, questo è quello che volevo dirvi. Secondo voi il Supercharger rimane un assetto fondamentale nella scelta dell'acquisto di una Tesla? Beh, secondo me ha perso veramente questa importanza. Ma per fortuna, secondo me. Questo è quello che penso io. Questo è tutto per oggi. Io vi ringrazio come sempre tantissimo e ci vediamo alla prossima. Ciao!